Un mese di marzo intenso per il movimento bocistico regionale, domenica a Frosolone con l'organizzazione della società bocciofila froslonese presieduta da Pasquale Mangione, si terrà il trofeo San Giuseppe alla memoria di Francesco Fraraccio. Gara regionale individuale alla quale sono iscritti 96 atleti, si giocherà sulle corsie di tutta la regione, finale a partire dalle 14.30 alla bocciofila froslonese. Mentre domenica scorsa a Venafro sono stati in 116 a contendersi il trofeo città di Venafro patrocinato proprio dal comune locale e vinto dal presidente della società organizzatrice il laghetto Venafro Gianni Fascia, il quale ha superato in una finale derby il compagno di squadra Luigi Russo a uscire di scena in semifinale Fabio Furpeni di Casalvieri III e Adriano Bernardis della Bianchi di Piedimonte San Germano, quarto posto per lui. A premiare il vincitore Gianni Fascia, il presidente della Fibo Molise Giuseppe Formato ed il sindaco di Venafro e presidente della provincia di Sernia Alfredo Ricci. Il mese di marzo riserverà ancora grandi eventi. Dopo la gara di Frosolone, infatti, la bocciofila Monforte Campobasso in collaborazione con la Fibo regionale organizzerà per domenica 26 marzo il Molise Bocce Trophy, Gran Premio CB Live, una doppia gara o un individuale nazionale nel circuito Major 500 a cui sono iscritti diversi campioni italiani, europei e mondiali e in contemporanea una terna regionale. In totale il 26 marzo saranno 160 gli atleti in gara. La Fib Molise è preseduta dal presidente Giuseppe Formato e anche al lavoro per i due eventi federali che si terranno in Molise nel mese di novembre. Dal 3 al 5 al bocciodromo comunale di Campobasso le finali scudetto dei campionati italiani di società di prima, seconda e terza categoria maschili, con l'aggiunta anche della Final Four femminile dal 9 al 12 novembre invece novità assolute ai campionati italiani di boccia paralimpica che si terranno al Pala Unimol ottenendo il patrocinio dell'Università degli Studi del Molise.